Per i nostri studenti abbiamo scelto due tipologie differenti di model. Il model United Nations e il model European Parliament. Il model United Nations è una simulazione dei lavori delle Nazioni Unite in cui gli studenti avranno l'opportunità di immergersi nella figura professionale del diplomatico e lavorare come se fossero dei veri delegati alle Nazioni Unite. Questo mi permette di conoscere da vicino la storia, la struttura, le funzioni delle Nazioni Unite ma soprattutto le dinamiche del diritto internazionale che sta alla base di tutte le risoluzioni dell'ordine e avranno l'opportunità anche di conoscere da vicino studenti provenienti da tutto il mondo, parlare l'inglese, potenziare le soft skills e vivere un'esperienza indimenticabile in una città come New York o Parigi. Il model European Parliament è una simulazione dei lavori del Parlamento Europeo, una simulazione in cui ogni studente avrà l'opportunità di scegliere una diversa figura professionale, ad esempio quella dell'eurodeputato o quella del giornalista o quella del lobbista o addirittura quella dell'imprenditore. Tutte queste figure professionali collaborano all'interno delle istituzioni europee per arrivare a delle decisioni che siano comuni e soprattutto il più possibile di larga diffusione. Queste simulazioni sono dei progetti in lingua inglese che danno la possibilità agli studenti di imparare facendo e quindi non solo di studiare del diritto internazionale o delle regole di procedura delle istituzioni, ma di in prima persona lavorare tutti insieme per arrivare ad una risoluzione dell'ONU o una direttiva europea.